Ciao a tutti da Michela, ciao da Fabio, vediamo un fantastico circuito di esercizi per combattere le rughe intorno al naso, allora con il dito, con l'indice vado a tirare su la punta del naso verso l'alto e contemporaneamente afferro con il labbro inferiore e il labbro superiore lo tiro verso il basso di modo da allungare proprio lo spazio che c'è fra il naso e le labbra. Facciamo questo tiraggio per qualche secondo, poi rilasciamo e andiamo nuovamente a ripetere questo movimento. Anche perché è abbastanza impegnativo, abbastanza doloroso. Non è semplice, in effetti bisogna, è tutto da provare, facciamo magari una serie da una quindicina di questi movimenti, un minutino di lavoro poi sostanzialmente. Sì, devo dire che poi la sensazione è quella di avere la pelle molto tirata, quindi io credo che siano davvero efficaci questi esercizi. Decisamente. Stancanti e efficaci. Bisogna provarli, provare per credere, se diceva una volta. E continuiamo sempre questi esercizi per la zona circostante del naso. Questa volta siamo di fianco, nella parte laterale del naso. andando a posizionare i pollici in pratica sotto il mento e con gli indici invece aiutiamo proprio la pelle a tendersi lateralmente verso le orecchie, quindi facendo questo movimento dal naso, dalla parte laterale del naso alle orecchie e contemporaneamente aiutandoci per aumentare la tensione con questo movimento della bocca. Quindi in pratica noi andiamo a mettere un punto fisso sulla bocca, quindi sulle labbra e andiamo a stirare, allungare la muscolatura zigomatica. In zigomi, guance, andiamo lentamente a far scorrere le dita sugli zigomi proprio per permettere questo allungamento e questo rilassamento, detensionamento della muscolatura facciale. Bene, iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividetelo con i vostri amici, provate gli esercizi e fateci sapere com'è andata. Grazie, alla prossima. Ciao.